Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, voglio parlare della crema per mani e piedi di OPI Pro Spa Skincare Hands & Fit che serve a proteggere le mani, le unghie e le cuticole e ha la particolarità da avere il burro di Kupuaku che in realtà alle volte non si trova nei cosmetici o perlomeno io non l'ho mai visto quasi da nessuna parte tant'è che mi sono comprata proprio il burro a parte che è molto idratante anche se va un pochino sciolto quando la temperatura è al di sotto di 30 gradi mi è piaciuta tanto, guardate già che ci sono la devo mettere sui piedi e sulle mani quindi me la metto intanto sulle mani insieme a voi non so quanto costa perché mi ero arrivata insieme a degli smalti e quindi l'ho voluta provare perché comunque non avevo mai provato cose di OPI per riguardo alla skin care e lascia la pelle super super morbida, mi piace tanto e anche la questione pellicine sembra essere migliorata con questo freddo io tra l'altro ho una pelle mista ovunque sia i capelli misti che la pelle mista del viso che la pelle mista del corpo quindi ho delle zone veramente secche e che appunto tendono ad essere molto sensibili e delle zone in cui ho brufoli, ho punti neri ma anche sul corpo e quindi anche le mani sono una zona in cui ho la pelle secca anche i piedi per esempio allora mi piace tanto, ve la consiglio mi piace molto rispetto anche a delle altre creme che ho comprato al supermercato e alle quali sono fedeli da anni tipo la Glysolid per esempio mi è piaciuta tanto questa è una di quelle creme che sicuramente ricomprerei voto mi avete chiesto di dare il voto ai prodotti ovviamente ci tengo a dire sempre secondo il mio gusto personale ci mancherebbe e il mio modo di appunto, cioè il mio gusto personale voto 7+++, perché mi è piaciuta tanto anche sui piedi rende i piedi secchi molto 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 morbidi e aiuta contro la secchezza dei talloni quindi se vi serve una crema che vada bene sia per le mani ma anche per i piedi perché ho notato che mentre le creme mani sono poco costose alle volte e funzionano più o meno bene le creme piedi che funzionano bene e che quindi vanno a idratare e a fare il loro lavoro costano tantissimo cioè io ne avevo comprata una che costava 10 euro e quindi, ma anche i burri non parlo semplicemente di creme prestigiosi ma anche mi ricordo che i prodotti piedi anche quelli della bottega verde costavano intorno ai 5 euro cioè comunque diciamo che le creme piedi costano e quindi questa qua che in realtà sia beneficia le maniche e i piedi può essere una valida alternativa innanzitutto per comprare un solo prodotto ma poi anche per avere i piedi belli idratati niente, questo è tutto un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video ciao